il napoli appena terminato l'allenamento a porta aperte qui al san paolo domenica sfida contro il verona c'è un po di rivalità tra le tifoserie cosa anche fra le città c'è rivalità insomma cosa vorreste dire ai tifosi del verona da tifosi del napoli da tifosi del napoli ai tifosi del verona dato che sono sono una neo squadra di serie a comunque di abbassare toni che vogliamo 11 leoni 3-0 giulietta è una che vinciamo stiamo venendo ma facciamo la capa tante una grande vittoria e basta solo vincere vedete quindi nei tre punti si ovvio a me la maccidere a me distruggere a noi per noi sono stato mai antipatico per noi perché non sono gente che non sono cattivi non sanno quello che fanno perché secondo voi con alon non è arrivato questo lo so il napoli sul mercato non farà secondo me nessun acquisto hanno minacciato il presidente il mercenario dei laurenti secondo me avrà visto pochi soldi e avrà detto va bene noi ce lo teniamo noi ma meno male che non viene più un giocatore dice 7 milioni per venersi a prendere un'altra pensione a napoli è meglio che non secondo me il napoli dovrebbe partire prima cioè come diciamo dovrebbe proporsi prima per acquistare giocatori importanti questo non bisognerebbe biconi si deve impegnare biconi la compra del presidente è la compra dei giocatori cosa sono emozionato ma faccio riccio ma questo sono tutte operazioni di mercato che credo che tutto se ne occupa la società del napoli